Allora ragazzi questo è l'ingresso del condominio quindi come vedete comunque è un bel ingresso quindi niente da dire siamo comunque su Viale Monza quindi la proposta che era stata accettata qualche giorno fa che avevo postato su Facebook adesso vi faccio vedere invece all'interno che cosa abbiamo trovato vi ricordo che ho fatto una proposta d'acquisto senza aver fatto l'immobile quindi ecco questo è quello che ci troviamo quello era l'ingresso quindi entrate direttamente da questa parte e questo è il soggiorno con cucina vista il bagno in questo momento non è dotato di antibagno c'è già il gas in casa e questa è la cucina questo è il bagno vedete eccolo qua finestrato quello lo scarico invece guardate di questa stufa a gas che tra l'altro è collegata col gas proprio in cucina tutti i tubi sono a vista si vede proprio qua invece siamo già in camera da letto quindi come vedete c'è la carta da parati ecco ciao